Siamo nel mese di marzo. In questi primi tre mesi si sono succedute violenze su violenze e solo qualche centinaio di donne purtroppo ci ha lasciato la pelle. Il motivo? La violenza. Uomini non abituati ad essere diversi dalle loro donne hanno usato la forza bruta per mettere a zittire le loro donne. Però il problema è che le hanno messo a zittire per sempre. Questo problema si è accentuato per cui le donne passano all'attacco, si difendono, vogliono parlare, vogliono far sentire la loro voce e a pagare un gruppo di ragazze fa sentire la propria voce. L'idea è quella di tutelare le donne e la loro dignità, dare voce a chi non ce l'ha e rompere il silenzio finalmente dell'omertà. Ecco, voci di donna. Voci di donna, sì. Per urlare cosa? Basta alla violenza, basta ai supprusi, basta alla cattiveria, all'omertà dell'uomo che pensa di essere forte picchiando una donna. Se io avessi qualche problema, che posso fare? Allora, può venire allo sportello che si trova ubicato a Piazza Corpo di Cristo, aperto il martedì e il venerdì, dalle 10 e mezzogiorno e mezzo, dalle 16 alle 20 e 30, dove gli verrà data a questa donna assistenza legale gratuita, assistenza psicologica gratuita. Ci sarà un'equip di persone pronte ad ascoltarla e a guidarla. Laddove ci fosse il caso di allontanare questa donna dall'uomo violento, stiamo stilando dei protocolli di intesa con le varie case rifugio del territorio. Quindi in questo caso potremmo anche allontanare la donna che subisce violenza costante. Lo spettacolo si intitola Voci di donne, logicamente. Voci di donne? Sono voci che si fanno sentire, secondo lei? Sì, ma che sussurrano, non urlano. Sono voci che hanno semplicemente necessità di venire fuori dall'emozione, da dentro, del perché essere una donna ed essere delicata. Le attrici chiaramente tutte donne, o no? Sì, l'unica voce maschile che c'è nello spettacolo è quella di Gaber, che dice all'inizio di tutto c'è sempre una donna. Grazie a tutti.